Alieni, teletrasporto, viaggio nel tempo, attività demoniache. Penso che alcuni di voi siano stati esposti alle udienze del mese scorso al Capitol Hill riguardo la serenazione di UFO, che adesso sono chiamati UAP, ovvero fenomeni anomali non identificati. Dato che alcuni di questi oggetti possono volare, ma anche immergersi sott'acqua. La preoccupazione principale dei testimoni è stata la frustrazione nei confronti del governo statunitense che sta nascondendo informazioni al pubblico riguardo a delle intelligenze aliene. Esaminiamo un attimino più da vicino però quello che è successo. Farò sempre una relazione con la Bibbia alla fine del video, per cui state con me fino alla fine. Ah, ricordate anche di lasciare commenti qui sotto, invece di invierarmeli via email o Whatsapp. E se non l'avete fatto, per favore, iscrivetevi. Allora, una prima visione dall'alto, ok? Le persone che si sono fatte avanti, questa volta, non erano balordi dalle menti squilibrate in cerca di fama. Uno di loro era Ryan Graves, che è capo dell'organizzazione statunitense per lo spazio sicuro. Un altro era David Grush, che è un maggiore dell'aeronautica. Infine il comandante della marina che ora è in pensione dal nome di David Fravor. Ricordiamo che queste persone hanno prestato giuramento davanti al comitato della Camera per la sorveglianza. Per cui è una cosa seria. E questo David Fravor, che è il comandante della marina in pensione, ha presentato un video di un oggetto visto da lui e altri tre piloti nel 2004, che era nettamente superiore a qualsiasi cosa che avevamo all'epoca, o che si potrebbe avere oggi o sviluppare entro i prossimi dieci anni. Attualmente non ci sono cose neanche vicine a questa cosa. Sono oggetti che scendono da 28 chilometri fino a livello del mare in pochissimi secondi, si immergono sott'acqua o rimangono addirittura fermi con uragani di categoria 4, senza apparenti sistemi di propulsione. E David Grush continua ad esporsi, ad insistere sul fatto appunto che il governo sia nascondendo deliberatamente delle prove di intelligenza non umana. E dice questo. È anomalo, e si dovrebbe chiamare anomalo la parola chiave, perché stiamo cercando di analizzare questo in modo agnostico e senza tutto il bagaglio culturale che c'è stato in passato. Graves ha anche detto che la maggior parte dei piloti è disposto a parlare in ambienti privati per paura di essere derisi o addirittura a compromettere la loro carriera. Ora, una cosa importante. La maggior parte di questi avvistamenti ha una spiegazione. Tuttavia però ci sono circa una dozzina di questi video che non si possono spiegare, assolutamente. Graves ha anche menzionato un evento del 1933 che ci tocca da vicino, perché era un'astronave a forma di campana di 10 metri di dimensione che fu recuperata a Magenta, vicino a Milano. È stata tenuta dal governo di Mussolini fino al 1944, quando poi degli agenti dell'ufficio dei servizi strategici degli Stati Uniti ne hanno preso possesso. E questo precede di 14 anni il famoso incidente di Roswell nel New Mexico, dove apparentemente un'astronave aliena è precipitata in una fattoria e i detriti sono stati recuperati. Ora, il rapporto ufficiale dell'Aeronautica dice che era un pallone militare, un pallone meteorologico, però un certo Jesse Marcel, che è stato il primo ufficiale dell'Aeronautica ad arrivare sul luogo e raccogliere i detriti, disse che il pallone meteorologico era solo una copertura. Quindi vediamo molte storie strane da fonti sempre più affidabili. Ma con che cosa abbiamo a che fare? Alieni? Teletrasporto? Viaggio nel tempo? Attività demoniache? Anche se potessimo viaggiare a velocità della luce, che sono 300.000 km al secondo, ci vorrebbero circa 25.000 anni per arrivare al centro della nostra galassia, la Via Lattea. Ma con la tecnologia che abbiamo adesso, con la tecnologia attuale, ci vogliono 750 milioni per arrivarci. E anche parlando di teletrasporto, teletrasporto umano è un'impresa impossibile nel vicino futuro. E mi piace una citazione di William Shatner, il capitano Kirk della serie televisiva di Star Trek, dove dice Vuoi dire che degli esseri altamente intelligenti percorrono 10.000 anni luce con una tecnologia super avanzata, arrivano qui e si mettono a giocare a nascondino? Tuttavia abbiamo alcune strane occorrenze da una fonte molto più affidabile, la Bibbia. Atti 8.39 dice Ora questa sembra la descrizione di un teletrasporto, anche se veniva poi attribuito all'aiuto dello Spirito del Signore. Un altro evento strano avviene in Secondo Re 2.11, quando Elia ed Eliseo sapevano che Elia sarebbe stato rapito. Ricordate? E dice Mentre camminavano e parlavano insieme, improvvisamente appare un carro di fuoco e cavalli di fuoco che separò i due, ed Elia salì in cielo in un turbine. Ora i carri erano un mezzo di trasporto comune all'epoca e pertanto la descrizione di un qualche cosa di motorizzato in cielo era difficile da descrivere. E Paolo dice anche in Secondo Corinzi di essere stato portato in un terzo cielo, se in spirito o in corpo non lo sa. Poi c'è quello mio preferito, Secondo Re 6. Gli arameni erano contro Israele e il profeta Elia avvertì il re d'Israele del piano di azione di Aram. E quindi gli arameni arrivavano in forze per prendere Elia a sequestrarlo. E quando Elia si alzò al mattino, il suo servo entrò in panico. Perché? Perché vede l'esercito tutto intorno. Nel versetto 17 leggiamo questo. Ora, questa armata celeste non è solo apparsa inosservata per la maggior parte delle persone, ha interagito contro gli aramei su richiesta di Elia. E questo solleva un punto interessante. Sembra che le attività paranormali ci circondino da sempre, ma spesso siamo all'oscuro perché non abbiamo ancora sviluppato gli occhi spirituali. Allora, è possibile che ci siano due realtà parallele, parallele, una terrena ed una celeste? Paolo ci dice di sì. Se leggiamo Efesini 6.12 dice Il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Quindi, la mia opinione personale è che occasionalmente vediamo manifestazioni di attività demoniache che sono attribuite ad alieni, proprio come è successo nei primi capitoli della Genesi. E pensateci un attimo, che grande alibi per i non credenti durante il tempo del rapimento della Chiesa. attribuire la scomparsa dei credenti a chi ha un'abduzione di massa da parte di alieni, così non c'è più bisogno di giustificarlo attraverso le scritture. Che ragazze, oggi mi ha fatto un video diverso, ma sono curioso però di sentire la tua opinione, per cui lasciamola qua sotto. Ciao e ci vediamo settimana prossima. Grazie. 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 Grazie.